C'è qualcuno in casa o ti aspetto? Ogni fine settimana ci riposiamo. Alcuni insetti vivono un solo giorno. Ho qualche speranza di vincere. Conosci alcuni dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca. Faccio un regalo a ognuno di voi. Alcune di loro sono molto belle. Qualche settimana fa ho viaggiato. Conosco alcune parole in italiano. Ogni giorno vado a scuola in bici. Qualche volta Maria mente a tutti. Alcuni di loro vanno al cinema. Alcuni studenti studiano bene. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. A Napoli ci vado ad agosto. Domani ci svegliamo alle otto. Luca ci vede tutti i giorni. Claudia ci telefona stasera. L'ho sentito ma non ci credo. Ci sono molti italiani a scuola. Ci vuole moltissimo tempo. Non ce la faccio più. Non ci voglio più andare. Appena svegli ci laviamo. Voi ci avete invitati al mare. Luca ci ha dato un biglietto. Non ci capisco più niente. Domani c'è molto da fare. Ci vogliono più persone qui. Ce la possiamo fare a finire. Se avessi tempo ti verrei a trovare. Magari avrò sete. Mi porterò l'acqua. Ne avevi già due. Ma ora ne hai tre. Penso che tu abbia avuto fortuna. Luca aveva sempre fame la sera. Piove e voi non avete l'ombrello. Claudia avrebbe avuto torto. Avete per caso dei libri di cucina? Mi dispiace non averti avvisato. Mi dispiace non averti avvisato. Stavamo avendo alcune difficoltà. L'auto sembra avere dei danni. Loro avevano finito di lavorare. Oggi avrei molto lavoro da fare. Mangiare. Digiunare. Chiudere. Aprire. Parlare. Tacere. Matrimonio. Divorzio. Pulito. Sporco. Bello. Brutto. Dolce. Amare. Opaco. Lucido. Felice. Infelice. Dietro. Davanti. Guerra. Pace. Colpire. Colpire. Mancare. Ordinare. Disordinare. Liscio. Ruvido. Con. Con. Senza. Sotto. Sotto. Sopra. Giù. Su. Maturo. Maturo. Acerbo. Riposato. Stanco. Alto. Basso. Leggero. Pesante. 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 Sentire. Io sento. Io sto sentendo. Cantare. Tu canti. Tu stai cantando. Finire. Lui lei finisce. Lui lei sta finendo. Mangiare. Io mangio. Io sto mangiando. Avere. Io ho. Io sto avendo. Fare. Io faccio. Io sto facendo. Andare. Io vado. Io sto andando. Leggere. Io leggo. Io sto leggendo. Piangere. Piangere. Tu piangi. Tu stai piangendo. Spendere. Lui lei spende. Lui lei sta spendendo. Cucinare. Io cucino. Io sto cucinando. Svegliarsi. Io mi sveglio. Io mi sto svegliando. Cadere. Io cado. Io sto cadendo. Parlare. Io parlo. Io sto parlando. Bere. Io bevo. Io sto bevendo. Uscire. Tu esci. Tu stai uscendo. Dire. Lui lei dice. Lui lei sta dicendo. Chiudere. Chiudere. Io chiudo. Io sto chiudendo. Vedere. Io vedo. Io sto vedendo. Capire. Io capisco. Io sto capendo. Studiare. Io studio. Io sto studiando. Io sto studiando. Io sono alto e biondo. Noi siamo alti e biondi. Sei un professore? Siete dei professori? Lui viene dal paese. Loro vengono dai paesi. La lavatrice è vecchia. Le lavatrici sono vecchie. Il lampadario è acceso. I lampadari sono accesi. Mio cugino è basso. I miei cugini sono bassi. Lei è felicissima. Loro sono felicissime. È comoda la polterona? Sono comode le polterone? La nonna è in Svezia. Le nonne sono in Svezia. Io sono di Napoli e tu? Noi siamo di Napoli e voi? La pizza è buona. Le pizze sono buone. Questo cane è nero. Questi cani sono neri. La macchina è veloce. Le macchine sono veloci. Il mondo è unico. I mondi sono unici. L'acqua è un liquido. Le acque sono dei liquidi. Sono stato in spiaggia. Siamo stati in spiaggia. Quella casa è vecchia. Quelle case sono vecchie. Il nostro amico è qui. I nostri amici sono qui. Immaginiamo che loro arrivino domani. Penso che loro finiscano di lavorare alle sei. Pensiamo che loro partano domani per l'Italia. è probabile che lei non capisca l'italiano. Dubitiamo che voi usciate prima delle sei. Io so che lui è una brava persona. È certo che viene anche lui alla festa. È probabile che lui non sappia dov'è la festa. Bisogna che loro lavorino di più. Lui è la persona più intelligente che io conosca. Tu sei l'unica persona che vive qui. Dovunque tu vada ci vengo anch'io. Da bambina mia sorella suonava il pianoforte. Da giovane mio fratello aveva i capelli lunghi. Ieri mentre mio padre dormiva io ho guardato la tv. Ieri ho dormito tutta la giornata. Mentre io studiavo lui giocava al computer. Nostro cugino ha viaggiato una sola volta. Da bambina lei non voleva mangiare la pasta. Alcuni anni fa io andavo spesso al cinema. Il nostro insegnante è molto bravo. Seguiamo le sue lezioni sempre con interesse. Maria è molto contenta della casa che ha ereditato dalla sua nonna. Mi ha scritto una mia cara amica tedesca. Marco puoi aiutarmi a tradurre la lettera? Luigi starà via due settimane. La sua valigia è piena zeppa di vestiti. Le ragazze sono in casa. Le loro biciclette sono davanti al cancello. Alessandro mi presti la tua moto per andare in farmacia? Mi dici per piacere che ore sono? Il mio orologio si è fermato. I nostri coinquilini sono gentili e disponibili. Con il loro aiuto siamo riusciti ad ambientarci nella nuova città. Elta studia dalla mattina alla sera per poter finire la sua tesi di laurea. Vorrei vivere a Venezia è il mio sogno.